Due feriti al bilancio di un incidente stradale avvenuto in provincia di Padova, a Loreggia. In via a Loreggiola si sono scontrati una bicicletta e un'auto. Sono rimasti feriti sia il conducente della due ruote che l'autista della macchina. A prestare soccorso, le squadre dei vigili del fuoco di Cittadelle di Castelfranco Veneto che hanno messo in sicurezza l'area e assistito i feriti, entrambi affidati alle cure del personale sanitario. Sul posto è atterrato anche l'elicottero del Suem 118. I sanitari hanno caricato a bordo il conducente dell'automobile e lo hanno trasferito all'ospedale.